Ciao a tutti, sono Ettore Candeloro, membro del team Beyond Touch. Il nostro team nasce un anno fa in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia il programma imprenditoriale TAC, mirato allo sviluppo di start-up in ambito automotive. Noi nasciamo con un obiettivo, l'obiettivo nostro è quello di proteggere i guidatori dalla guida in strada di ebrezza e prevenire incidenti stradali. Purtroppo ogni anno circa il 25% degli incidenti mortali stradali sono dovuti all'alcol. Quello che vogliamo fare noi è sviluppare un sistema detto di alcohol lock che fermi l'accensione della macchina con un bottone di accensione integrato nella macchina che riesce a misurare con un semplice tocco i livelli di alcol del guidatore. In questo sensore metteremo un particolare sensore che misura i fasci di luce e con un algoritmo di intelligenza artificiale vogliamo misurare i livelli di alcol del guidatore. Speriamo di riuscire a collaborare con i Tier 1 che producono sensoristica automotive per continuare il nostro sviluppo prodotto.